Ciao a tutti e benvenuti su Gaglio Play, in questo video vi spiegherò come ottenere il trofeo e come passa il tempo in Minecraft. Il requisito di questo trofeo è quello di giocare per 100 giorni, ma occhio 100 giorni in Minecraft. Ora questo trofeo non pensavo neanche di dovervelo spiegare ma dato le moltissime richieste che ricevo vi spiegherò come farlo. Avviate una partita normalissima, la vostra oppure una nuova e ricordatevi di avviarla in modalità sopravvivenza-difficoltà-relax perché in relax il personaggio non perderà vita e quindi non avrà bisogno di mangiare. Poi, una volta che avrete a disposizione il letto e abbastanza materiale per costruirvi una casa, anche se in realtà è più un ripostiglio, non dovremo fare altro che costruire una struttura proprio di due blocchi, giusto per farci stare il letto, e poi murarci dentro in modo da rimanere bloccati lì. Perché? Perché quello che faremo sarà mollare il joystick, ovviamente bloccato con un elastico, e lasciare la play accesa tutta notte. Almeno questo è il metodo che conosco io per ottenere in fretta questo trofeo, perché se no l'altro metodo è giocare normalmente finché non passano i 100 giorni. Comunque, una volta chiusi dentro, io ovviamente ho messo una torcia altrimenti non si vedeva niente, basterà bloccare il personaggio che guarda perfettamente in passo, quindi il letto, e con un elastico bloccare il joystick sul tasto L2, in modo che continui a puntare e a utilizzare il letto per dormire. Ovviamente non andrà a dormire perché non è notte, ma appena sarà notte andrà a dormire. Così diciamo che i 100 giorni saranno più brevi da fare, perché ovviamente la notte si salta. E quando tornerà giorno il personaggio si rialzerà puntato ancora verso il letto con L2 ancora attivo, quindi continuerà a utilizzare il letto non appena sarà possibile. Fatelo per 2-3 notti massimo se proprio non vi siete, non avete mai giocato a Minecraft e otterrete così il trofeo. Bene, per questo video trofeo è tutto e come al solito vi chiedo di mettere un bel like, di commentare e di iscrivervi se non siete ancora iscritti. E come al solito ci vediamo al prossimo video trofeo di Minecraft. Ciao!